Vivere arricchendosi sul sangue della gente, sfruttando il lavoro nero, è peccato mortale. Lo ha detto Papa Francesco riflettendo sul significato della ricchezza, commentando la prima lettura dell'Apostolo Giacomo nella Messa del Mattino a Casa Santa Marta. Le ricchezze in se stesse sono buone, ha spiegato Papa Francesco, ma sono relative, non sono una cosa assoluta. Quando le ricchezze si fanno con lo sfruttamento delle persone, quei ricchi che sfruttano schiavizzano il lavoro della povera gente. Pensavamo che gli schiavi non esistessero più, ha proseguito il pontefice, ma ha ricordato che oltre al traffico degli esseri umani nascosto nei flussi migratori, sono schiaviste anche molte dinamiche del mercato del lavoro moderno, con i lavori in nero senza garanzie e tutele per il lavoratore. Pensiamo a questo drama di oggi, lo sfruttamento della gente, il sangue di questa gente che diventa schiava, i trafficanti di gente che non sono soltanto quelli che traficcano le prostitute e i bambini di lavoro, sino quel traffico più, diciamo, civilizzato. Io ti pago fino a qua, senza vacanze, senza l'assicuramento sanitario, tutto in nero, ma io divengo ricco. Che il Signore ti faccia capire oggi quella semplicità che Gesù ci dice nel Vangelo di oggi. E' più importante un bicchiere di acqua in nome di Cristo che tutte le ricchezze accumulate con lo sfruttamento della gente. Grazie. Grazie. Grazie.